Gentili spettatori, presentiamo allora il secondo match di giornata di questo triangolare amichevole. Di fronte abbiamo la nazionale giornalisti Rai Italia contro la nazionale sicurezza sul lavoro. Nel primo match sacerdoti Italia Calcio ha battuto 2-1 nazionale sicurezza sul lavoro. E allora andiamo con le formazioni giornalisti Rai, Scannarino, Marini, Mascia, Marro e Picoco. Borghetti, Severino, Di Serafino, Pizzuti, Dellena, Poltrini, Amoroso e Caroli. Allenatore Mancini, Safety Players, Paganini, Scagliola, De Vita, Restivo, Colucci, Canestro, Antinoro, Parisi, Fadenti, Barberis, Caboni, Cecchin, Miraglia, Monzione, Moioli, Mattiolo, Del Meglio, Monaco, Tomeo e De Rosso. Destra per il numero 95 Monzione. Ancora Monzione in area di rigore per Fadenti. Fadenti il destro bloccato in due tempi da Scannarino. Primo squillo offensivo dei Safety Players che si presenta più calda alla partita dopo aver giocato la prima. Ancora un po' sulle gambe invece gli Orange. Attenzione il contropiede della Nazionale Giornalisti Rai che passa in avvantaggio. Contropiede clamoroso ha bucato sulla destra la numero 9. Si è presentato davanti a Moioli e con il sinistro non ha lasciato scampo. E allora la Nazionale Giornalisti Rai passa in avvantaggio con il gol del numero 9. Emiliano Pizzuti. Niente. E allora palla in profondità ancora per Pizzuti che può puntare la porta come in occasione del primo gol. Pizzuti, Pizzuti. Salta il portiere invece no perché Moioli lo tiene lì. Ma tiene la pallone ancora lui, ancora Pizzuti. Bravissimo stavolta l'estremo difensore. Il sinistro in area di rigore per Masha. Ciuden a calcio d'angolo il numero 4 Caponi. E allora tiro dalla bandierina per gli Orange che sono andati vicinissimo a raddoppio. Calcio d'angolo. Centro dell'aria. Bucano tutti. La palla che arriva a Poltrini. Poltrini la finta e la sinistro alza in a calcio d'angolo. De Vita. Grande salvataggio. Forse non ci sarebbe arrivato. Moioli bellissima la conclusione di Poltrini. Due uomini in barriera per Scannavino. Fadenti scodella al centro dell'area di rigore. Attenzione la rete. La rete. Check in di testa. La spizzata che pesca l'angolino e batte l'estremo difensore Orange. Trovando il pareggio per la nazionale sicurezza sul lavoro. Bella la scodellata di Fadenti. Bravissimo. E la numero 43 a spizzare, a pescare l'angolino giusto. E allora ha segnato per Savity Players il numero 43. C'è chi? Dall'altra parte per Pizzuti ancora in verticale che può sfidare Moioli. Pizzuti, Pizzuti. Salta Moioli. Secco. La porta è vuota. Col numero 9 che calcia. Trovando la porta. E allora 2 a 1 per gli Orange. Ancora letale in contropiede al numero 9. Una specie di Pippo Enzaghi pronto a partire sulla linea del centrocampo per involarsi verso la porta. 2 a 1 per i giornalisti Rai. Ha segnato ancora col numero 9. Emiliano Pizzuti. Lungo lancio. Cercare Monzione. Monzione può arrivarci prima. Monzione! Bravissimo il numero 95 ad arrivare per primo su questo pallone lanciato in area di rigore da parte di Miraglia. E allora con la punta il numero 95 ha letteralmente bruciato Scannavino per la rete del 2 a 2 del numero 95. Monzione! 2 a 2! Gli schia letteralmente Marro su questo passaggio del meglio scivola. Grazie all'avversario ma Mattiolo gliela strappa via e prova a passare al limite dell'aria. Attenzione a Tomeo che allarga per Monzione. Monzione con il destro! Palla che sfila la traversa. Non di molto. Grande chance per il 3 a 2 di Safety Players. Ancora con Monzione. Non è Safety Players. Mattiolo in verticale. La palla è passata. Monzione posizione regolare. Scivola. Pattina praticamente. Poi va giù. E l'arbitro indica il dischetto. Calcio di rigore per Safety Players. Contatto in area tra Monzione. Arbitro fischia. Temattioli! 3 a 2 per la formazione in bianco. Mattiolo scusate. Mattiolo spiazza dal dischetto Scannarino e trova l'avvantaggio. Rimonta completata da parte di Safety Players. E allora dal dischetto per il secondo gol in questa Christmas Cup. con il numero 26. Mattiolo! 3 a 2! Adesso arriva ma è fuori gioco di rientro per il guardalegno. Invece è tutto regolare. E allora Monzione può andare via a destra. Verticalizza nuovamente per Mattiolo. Mattiolo in area di gore. Il piattone! La risposta! Con il piede di Scannarino ad evitare la doppia. E il 4 a 2 di Safety Players. Nuovamente la manovra in bianco. Palla in area di gore. Per De Rosso. De Rosso. De Rosso. Con la punta. De Rosso! 4 a 2 Safety Players. Bravissimo Mattiolo a rialimentare l'azione offensiva in bianco. Servire De Rosso in area di rigore che di forza batte ancora Scannarino. E allora per Safety Players con il numero 83. Del Rosso! 4 a 2. Mattiolo rompe il centrocampo avversario lungo lanci in avanti per Monzione. che prova a puntare ancora la difesa avversaria. Monzione va sul destro. Poi sul sinistro. Passa Monzione. A giro! Palo! Clamoroso! Una magia della numero 95. Marini che sbaglia. E allora prova a andare via ancora a Sisa De Rosso. Per check-in. Col piattone. Ancora Palo. Poi Monzione! Si divora letteralmente il 5-2. Briciando alto. Secondo legno. Per Safety Players. E poi Monzione se lo divora. Era oro colato. Non arriva sul pallone. E l'arbitro fischia tre volte.